Amici 22. Scoop su Raimondo Todaro e Mattia Zenzola. Cosa è successo? Amici 22, ha registrato uno scoop riguardante Raimondo Todaro e Mattia Zenzola, suscitando l'interesse del pubblico. Non sono stati forniti molti dettagli sulla natura specifica dell'evento o dell'accadimento coinvolgente Raimondo e Mattia, lasciando spazio a speculazioni e curiosità. Lo scoop ha generato un'atmosfera di suspense e interesse tra i fan del programma e i telespettatori. Si ipotizza che l'evento possa riguardare un avvenimento significativo o un cambiamento rilevante nella vita o nella carriera di Raimondo e Mattia o l'interno di Amici 22. Non è chiaro se ci saranno ulteriori dettagli o sviluppi successivi riguardo a questo scoop. L'evento mette in evidenza come Amici 22 riesca a mantenere l'attenzione del pubblico attraverso momenti di sorpresa e rivelazioni che coinvolgono i suoi concorrenti.